Ciao a tutti, sono Mauro Abasili, vi parlo dal mio studio, mi occupo di moda, in particolare il mio ultimo progetto è a sostegno dei giovani stilisti. Nulla può accadere senza un incontro e così è il mio lavoro e così è successo quando ho incontrato Giacomo che mi ha parlato di questo progetto Time to Love e quello che è successo è stata una grande emozione, un'emozione che mi ha fatto dire sì subito, sì al diritto alla vita, sì all'amore, sì alla felicità e alla gioia di nascere. Sostieni con me Time to Love.